Buonasera, dove siamo? Buonasera amici Buonasera Benvenuti in una nuova live Se ci vedete un po' affannati perché abbiamo fatto una corsa in 5 minuti per tornare a casa mia a prendere il capture, il video capture perché l'HDMI non viene letto senza l'adattatore che lo capture e quindi abbiamo fatto una bella corsa anche perché qui vorrei farvelo vedere, dopo lo faccio vedere c'è una centrale nucleare quindi abbiamo perso tempo a montare tutto poi ci siamo resi conto che ci serviva il capture e allora mette una bottiglia qua perchè si muove la... No! Ho fatto cascarlo No c'era dentro? Sì Eh certo Eh che fa come ora sei bicchieri voti? Ecco No, ora non so sporca da voi Ma perché no, spero Sì 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 Oh ma non ho capito Sì È stato fatto su sto tavolo E non c'è pure di più Sì Vabbè è stato intrattenuto Faccio vedere questa scena Sì Eh ma io voglio andare al ballo però Non mi metto le lastre Non serve Ma che cacciata Che casino Che casino Guarda Quelle mo le cuffie poi me le devo piacere Dovrei che Poi c'è lo zucchero che E la cosa che non mi si staccano più lo do E rimarrò con le cuffie Tutto qua Che cazionda Eh che tu vuoi fare? Niente lo so qua io Ehm Chi è che urla? Pure io voglio urlare in questo momento Pure un po' io Ehm Urla 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 Ehm Quindi abbiamo fatto tutto un po' di corsa Ma ecco qua Poi Casca tutto Ti perdoni papà? Ma sì Ah ok Che cazzo come noi quando sto da solo? Eh no Quindi potevi di qualcosa così facciamo le views Ah Sì parco due Non te ci fatti veni più Eh perché Io poi lavavo la limonata Non è che poi la dobbiamo Ecco Buttare Ecco Oh E' una che basta con queste limonade che cazzo Vabbè raga Quindi stasera ci sfidiamo Non so è finita vai Per fare una fede Per fare una fede Per fare una fede Per fare una fede Lasciamo tutto così Ok Quindi stasera ci sfidiamo Con una specie di nest E' scritto nest Per così Grappavamo il pubblico Però è un nest In cui la nest Sta per Napoli Come dice il papà E' quindi E' un nestino così Però ora lo facciamo vedere bene Perché è molto carino E' Allora Molto Vedete Vedete pure i telecomandi Sono molto simili Guardate che belli I controller Si vede meglio Troppo vicino Non so Giocheremo Vedete E' 500 classic games Quindi ci saranno Probabilmente quelli A cui ho giocato L'altra volta Però c'è questa praticità Ah Al controllo Vedere Il controller Non ho spostato Il suo tutto Questo Pesso sopra Questo lato Questo lato Questo è lato Questo è lato Questo è dietro Il culo Il culo Il culo Ok Il culo non si levano più perché perché la limonata e zuccherina e poi si incollano levare poi la gommina e poi in giro questo non mangio la gomma al limone posso mettere io un video ragazzo venuto al mare sì nessuno di loro conosce questa perla ci siete tutti perché importantissimo allora un po di tempo fa per il periodo in cui andavano i meme di dragon ball con i titoli io l'avevo fatti con Inazuma Eleven ok e vabbè i video saranno esplicativi ok ora il fatto di cerco mi ricordo ah era titolino imperatore si chiamava titolino imperatore ecco titolino mematore siate pronti no che è successo aspetta aspetta ho capito il problema ecco l'ho capito il problema un balcone perché fuori l'occhio fresco tutto si muore super professionale proprio azzeccato grazie potente molto potente non so ragazzi non so che dicevo i come i cosi di dragon ball però l'avevo fatti con Inazuma tu c'hai le cuffie no e forse anche con l'amo se n'arecchia ok forse andavano i titoli di dragon ball i meme di titoli di dragon ball e l'avevo fatti con Inazuma e buona visione per farvi capire il genere 2020 periodo lockdown andiamo al numero due anzi che inizia entra lui nel numero due certo starà a casa pure io la tecnica finale segreta del nonno e poi c'è il numero tre che mi è venuto a questa casa proprio perché abbiamo ripensato a questo che sto per farvi vedere ecco qua il ragazzo è venuto dal mare mi sono piaciuti a me il bancho mi sono piaciuto da